Dibattiti e polemiche, resta caldissimo il tema legato all'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari. A Chieti, come conferma la Presidente dell'Ordine, dottoressa Lucilia Gagliardi, non c'è ancora una comunicazione ufficiale di medici che non abbiano ottemperato all'obbligo vaccinale. La ASL non ancora ci comunica l'elenco dei colleghi che non si sono vaccinati, quindi ad oggi non ci risulta niente. A naso o per le informazioni che abbiamo, per le vie brevi, sappiamo che soltanto una quota molto piccola di colleghi non si sono ancora vaccinati. Volendo quantificare 5%, 6%, 10%? Sicuramente intorno al 5% o anche di meno. L'elenco che tarda ad arrivare da parte dell'azienda, motivi di natura burocratica, diciamo così? Sicuramente sì, la direzione deve acquisire dei nulla a osta per quanto riguarda il superamento della privacy. Per avere poi gli elenchi da parte della Regione e incrociare l'elenco dei medici che noi abbiamo mandato alla Regione nel mese di aprile, a norma di legge e lo deve incrociare con i dati che sono sulla piattaforma di poste italiane e sono i dati dei vaccinati. In che cosa consistono le sanzioni per i medici Novax? L'ordine una volta ricevuta la comunicazione di sospensione, perché questa è la legge di sospensione del medico, provvede a comunicare all'iscritto che è stato sospeso dall'azienda e lo sospende dalle attività che prevedono un contatto diretto con il paziente, con l'assistito. Durata della sospensione eventuale? Al momento fino al 31-12-2021, però noi pensiamo che la norma probabilmente sarà prorogata. Ci sono anche medici che non possono sottoporsi al vaccino? Certamente sì, come per tutti i pazienti ci possono essere delle ragioni di natura medica, sanitaria, che controindicano la somministrazione del vaccino. Loro non verranno sicuramente sospesi. Lei in qualità di Presidente dell'Ordine naturalmente sta facendo opera di persuasione. È riuscito a convincere qualche medico? Qualcuno sì. Questa mattina mi ha telefonato un collega dell'area di Lanciano che mi chiedeva indicazioni su come accedere alla vaccinazione. D'obbligo dunque un appello, Presidente? Sì, faccio un appello e mi rivolgo alla telecamera, a tutti quanti i colleghi che non avessero ancora ottemperato all'obbligo vaccinale di farlo al più presto. Il vaccino è l'unico sistema che oggi esiste per limitare la diffusione del virus, per ridurre le infezioni, per ridurre le ospedalizzazioni in terapia intensiva e nei reparti di medicina. Vaccinatevi, fatelo, ripeto, per voi stessi, per i vostri pazienti e per le vostre famiglie.